Musica Ai microfoni di TRG parla il parlamentare Tifernate e Riccardo Augusto Marchetti sulle ultimissime dalle trattative sul futuro governo Lega 5 Stelle l'economia attende novità per guardare al futuro Aperti a Foligno gli stati generali del turismo in Umbria per la Presidente Marigno un segnale forte di un settore che è in netta ripresa dopo la crisi post-sisma L'Umbria deve ancora crescere culturalmente sul fronte della bioenergia lo afferma il Presidente regionale di Confagricoltura Rossi commentando il caso dell'impianto che sta nascendo a Gubbio tra molte polemiche Buonasera ben ritrovati con l'appuntamento del nostro TG Economia dunque la politica ma guardando anche al futuro economico del nostro paese e della nostra regione in apertura perché ai microfoni di TRG parla il parlamentare Tifernate e Riccardo Augusto Marchetti sulle ultimissime dalle trattative sul futuro governo Lega Movimento 5 Stelle come detto l'economia attende novità e novità dovrebbero arrivare nelle prossime ore Sentiamo Anche questa mattina ci sono stati diversi contatti fra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per quanto riguarda la formazione di questo governo stanno lavorando sui punti che ci vedono sui punti in comune fra Lega e 5 Stelle che verranno poi sottoscritti e siglati si sta lavorando per cercare di individuare la figura probabilmente esterna che diventerà Presidente del Consiglio dei Ministri e quelli che sono i 13 ministeri più gli altri senza portafoglio che verranno a crearsi c'è pure la possibilità sembra che si venga a creare il Ministero per il Federalismo quindi per noi sarebbe una grande soddisfazione anche questa e vediamo quello che succederà comunque di novità ce ne sono gli incontri e i contatti stanno andando avanti molto intensamente fra le parti Beh è chiaro che fare nomi oggi è abbastanza complesso perché sono sicuro che da qua a lunedì si sposteranno tantissime posizioni quello che a oggi si paventa come una reale possibilità è Matteo Salvini agli interni e Luigi Di Maio agli esteri questo è abbastanza probabile però ribadesco da qua a lunedì si può stravolgere assolutamente tutto per quanto riguarda il Premier avevamo avanzato noi non ci sarebbe dispiaciuto come Lega Giancarlo Giorgetti purtroppo però credo che alla fine la figura non sarà politica ma sarà esterna quindi se non altro a Lega e 5 Stelle e quindi si andrà in una figura di rilievo una figura che è comunque ben vista anche all'estero da penso l'Europa piuttosto che dall'amministrazione americana quindi vediamo Parliamo di viabilità la società quadrilatero condivide l'impegno delle organizzazioni sindacali volto a tutelare i livelli occupazionali nei cantieri quadrilatero gestiti da Astaldi è necessario sottolineare che non c'è alcun rischio di opere incompiute scrive la quadrilatero in una nota dopo le forti preoccupazioni espresse dai sindacati CGL Cisle Will di Ancona a seguito di un incontro con l'azienda esecutrice che aveva appaventato 40 licenziamenti quadrilatero spiega la società unitamente ad Anas e Governo ha dimostrato forte determinazione a portare a termine i lavori sulla direttrice Perugia Ancona e Pede Montana delle Marche superando due complessi blocchi nel tempo originati da crisi finanziarie dai contenuti generali di ciò il territorio ne è pienamente consapevole si unisce alla determinazione il fatto che i lavori sulla direttrice Perugia Ancona continua la quadrilatero sono interamente finanziati e stanno procedendo secondo i cronoprogrammi aggiornati alla luce dell'inserimento nelle reti di rilevanza europea che hanno comportato una necessaria attività di progettazione volta all'allineamento agli standard dei corridoi dell'Unione Europea parliamo di turismo perché si sono aperti a Foligno gli stati generali del turismo in Umbria per la Presidente della Regione Marini un segnale forte di un settore che è in netta ripresa dopo la crisi post-sismo vediamo iniziamo il percorso per l'attuazione della parte più importante del testo unico sul turismo della nostra Regione che è l'elaborazione del masterplan triennale di attività che sostituirà gli obsoleti piani di promozione turistica annuale e quindi è un lavoro con cui vogliamo partire dal basso ascoltando soprattutto gli stakeholders del turismo regionale per farci dare un contributo all'elaborazione di questo piano di attività di promozione turistica che sarà un piano triennale con il quale rafforzeremo da un lato i prodotti turistici della nostra Regione che su quale abbiamo incanalato l'immagine dell'Umbria cioè il paesaggio gli eventi la cultura e la spiritualità e soprattutto lo faremo utilizzando strumenti nuovi e innovativi come gli analytics cioè analizzando utilizzando gli strumenti che le tecnologie moderne ci danno i comportamenti dei turisti quelli che passano da noi quelli che non si fermano quali sono i loro gusti quali sono le esperienze che vogliono vivere in questo modo rafforzando i punti di forza e cercando di eliminare le criticità tutto il tutto finalizzato a tre obiettivi ovviamente aumentare gli arrivi e le presenze e soprattutto l'occupazione media delle nostre strutture turistiche dal 2015 a venire avanti abbiamo rafforzato potentemente le attività di comunicazione con delle campagne quest'anno ce ne saranno addirittura tre una per la primavera che è quasi completata una per l'estate e una per l'autunno inverno che diciamo si muovono su una pluralità di mezzi di comunicazione sul mercato nazionale privilegiando sì la destinazione ma soprattutto la motivazione alla vacanza l'esperienza e quindi i prodotti su cui andremo a lavorare penso che ormai abbiamo superato quella fase critica che ha contraddistinto soprattutto i mesi dal 30 ottobre del 2016 al maggio 2017 aprile maggio 2017 l'abbiamo riassorbita tant'è che i primi tre mesi del 2018 ci danno un più 30% di arrivi un più 10% di presenze non solo rispetto al 2017 anno che ancora qui vivevamo gli effetti del sisma ma anche rispetto al 2015 ce l'hanno prima del sisma e questo ci fa ben sperare che ormai la fase sia stata definitivamente superata intanto i dati del primo trimestre 2018 confrontati con quelli dell'analogo periodo di un anno fa confermano un trend positivo per quanto riguarda i servizi dell'alta velocità di Trenitalia che hanno allargato la copertura nelle fasce orarie estreme dal mattino alla sera i Perugia Milano ad esempio hanno fatto registrare oltre 16.300 clienti in questo numero sono compresi sia i viaggiatori che hanno già svolto il viaggio sia quelli che lo hanno prenotato nei primi tre mesi del 2018 i ticket acquistati sui canali online di Trenitalia hanno toccato i 15 milioni ma certamente il boom della tratta Umbra fino a Milano rappresenta una delle operazioni più felici in questo ultimo periodo parliamo anche di agricoltura l'Umbria deve crescere culturalmente sul fronte della bioenergia ad affermarlo il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi che commenta il caso delle polemiche legate all'installazione di un impianto di cippato che sta nascendo a Gubbio e sul quale ci sono malumori secondo Rossi del tutto infondati sentiamolo si ritroveranno il prossimo 18 maggio presso i locali della chiesa di Padula i componenti del comitato Gubbio Salute Ambiente nato con l'obiettivo di proteggere il quartiere e tutto il comprensorio gubino dalle installazioni di centrali elettriche che bruci in ocippato di legna o altri materiali per produrre energia si affronterà nuovamente dopo l'incontro dei giorni scorsi il tema dell'impianto di cogenerazione prevista a San Marco su progetto presentato dall'azienda agricola di Maurizio Casoli il comitato in una nota è tornato a sottolineare la sua contrarietà chiedendo all'amministrazione comunale di riesaminare la documentazione presentata e valutare la possibile revoca dei permessi rilasciati l'imprenditore da parte sua auspica un confronto sereno con i cittadini teso a fugare qualsiasi dubbio sulla natura di ciò che verrà bruciato nell'impianto unicamente cippato a ferma e sulle emissioni lo stesso materiale di risulta della combustione precisa non sono ceneri ma carbone vegetale attivo e mentre l'imprenditore attende gli esiti del nuovo incontro c'è chi sulla questione interviene in modo energico affermando le ragioni del mondo dell'agricoltura che in Umbria e specie in questo territorio afferma sconta una retratezza culturale in materia di bioenergie è il presidente di Confagricoltura Umbria Fabio Rossi pensare che una caldaia che brucia legna la legna è il nostro territorio e c'è un'efficienza del 95% 98% rispetto a un cammino che è il 10% di rendimento e dire pensare che chissà quale male può creare una caldaia a legna è veramente una cosa vergognosa vergognosa perché poi comunque non è tanto il problema che si può creare appunto problemi all'imprenditore a chi vuole fare queste cose ma veramente si portano in giro le persone purtroppo tutti in agricoltura vogliono mettere in bocca purtroppo sono persone che vengono portate in giro da questi affabulatori da queste persone che in maniera veramente perversa e anche volutamente creano problemi di questo tipo è una cosa vergognosa mi dispiace sono assolutamente solidale con con l'imprenditore non so neanche a quale sindacato appartiene non me ne frega niente però spero che lui vada avanti perché veramente fa una cosa normalissima e forse bisogna prendere a fare il censimento di tutti quelli che hanno i camini e ce l'ho anch'io il camino e magari fare spegnere tutti i camini perché sono quelli che inquinano i camini che hanno il 10% di rendimento rispetto a un impianto moderno come quello lì che è stato progettato con il 95% di rendimento vuol dire che il 95% di rendimento che inquina solo per una piccola parte rispetto a un cammino che chiaramente avendo il 10% butta più particolato fa più fumo eccetera eccetera e chiudiamo con la notizia che riguarda anche la nostra emittente 4 corecom uniti per un unico obiettivo raccontare per ricostruire l'edizione 2018 del progetto TV di comunità realizzato per dar voce in chiave positiva ai territori colpiti dal sisma del 2016 Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo sarà presentato a Roma lunedì prossimo 14 maggio alle 11.30 presso la sede dell'autorità per le garanzie della comunicazione sarà presente il presidente della Gcom Cardani commissari Morcellini e Posteraro e presidenti dei corecom coinvolti tra cui quello dell'Umbria Marco Mazzoni il progetto attraverso la narrazione di notizie positive relative ai temi di economia cultura turismo e legami sociali vuole offrire un reale supporto alla valorizzazione e promozione dei territori di tutta l'Italia centrale colpita dal terremoto un concorso a cui parteciperà anche TRG con le sue produzioni è tutto per questa edizione del TG Economia che andrà in replica sia in tarda serata che nella mattinata di domani domenica 13 maggio è tutto grazie per l'attenzione e buona sera grazie per la visione